Che fretta c'era, maledetta primavera. E in effetti quello del 2018 passerà alla storia come uno degli inverni più lunghi degli ultimi anni. Nevicate intense anche a bassa quota, un 19 marzo da incubo, con vento forte e temperature attorno allo zero. A Bassano pioggia, ma basta alzarsi di poco ed ecco com'era la situazione. A Fietta, 400 metri sul livello del mare, la neve ha imbiancato il panorama. In montagna la nevicata è stata decisamente intensa. Questa foto arriva dal rubbio. Qui invece siamo a Campo Solagna, una trentina di centimetri di neve caduta in poche ore. Un evento eccezionale naturalmente. Già da martedì la situazione è data in miglioramento, con il sole che tornerà a far capolino e le temperature che lentamente ritorneranno entro le medie stagionali.